Eccomi qua Ogni tanto faccio scherzetto di merda, non lo so perchè Allora dimmi un po' che ti servono delle ammo, delle munizioni? No No? Dove cazzo stai tu? No, da che parte Vieni dove sto io perchè, aspetta 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 un po', aspetta Vedete se mi puoi far venire a fast travel, resta a lei, non ti muoverà Ma no, ma... Oddio, ma ci buoni qui Si sto a venire, sto a spugare la in mezzo, perchè? Intanto dobbiamo andare all'aeroporto C'ho il... C'ho il... Eccomi qua, sono davanti a te Cioè io non ho munizioni per... Eh, se tu vieni davanti a me ti do qualcosa Allora, se tu hai del 5,56 che non ti servono Allora, vediamo un po' allora Allora, 12, 243, 9 mm, 12, 7... C'ho le 762, li servono? Si Quante te ne servono di le 762? Quante te ne pare? Allora, te ne facciamo... Allora, te ne facciamo... Ce ne ho 478, te ne do... Facciamo la metà, 200, va bene? 280 Buono, buono, buono Tu le 5,56 ce le hai? Aspetta che sto guardando Stanno per terra 32 ACP Ti servono? No Probabilmente... C'erano le 5,56 ce le hai? Ci sto... Ci sto arrivando, aspetta 5,56, purtroppo ne ho soltanto 32 Ti posso dare 32 colpi, ti posso dare... Tu ce le hai da tutti quanti, non so... Non ce le ho... C'erano però le 5,56 piercing armor weapon E' uguale, uguale, uguale E' uguale, uguale Allora, drop item Te hai da 8 e 108 C'è qualche arma speciale che tu... Che usa il 50 BMG a te? No Beh andiamo via, andiamo a... A farci le pippe Andiamo all'aeroporto Sta puttana non sa fare le pippe Aspetta, vediamo se all'aeroporto c'è il fast traveling Lo cazzo sta l'aeroporto, puttana miseria, mi sono dimenticato Che sta mappa fa talmente schifo che carica a 10 km l'orale Si capisce un cazzo quando lo carica Ecco qua Ecco qua Aeroporto F23 Overbay No, non c'è il fast travel qua Si, non c'è il fast travel Ah, la casetta su ci sta La safe house Ok, eccomi qua Andiamo... Andiamo... Vediamo qua se possiamo craftare qualche cosa Un attimo solo, eh Ok Cazzo è sta cosa? Perché c'ho... Perché c'ho la colla nell'inventario? Granate, celle Ah, ecco qua i fireworks c'ho io, eh Questi qua sono buoni, eh Allora, aspetta, allora Vediamo un poco... Allora, non ti avvicinare troppo a lei Perché sennò a fine che poi facciamo qualche figura di merda Ah, c'è qualche cosa di strano che vedi nella mappa E come no Aspetta che io... Non c'ho ancora niente Ah, ecco, c'è quel coso enorme là Ce ne sono... Ci sono due cose enormi Un coso enorme E... Poi c'è altri due amici suoi Anzi, sono in tre gli amici suoi Cioè, quindi mi stai dicendo che se cambiano così non mi sente Non ho detto questo Qua Aspetta, eh Mettiamo su inventory Li metto il... Il fireworks Il fireworks Li metto... Dove cazzo posso mettere i fireworks? A posto della pistola li ho messi Ci vogliamo avvicinare? C'è un altro lì Ne sono uno Due e tre Eh, sono tre... Sono tre in totale quelli davanti a me Perché ci sta quello grosso Sono tre cazzetti Ok No, eh sì, quelli la piccolini sono tre I bipedi Sono tre infami e... Perché... Perché quel coso grosso sta mimetizzato Quello piccolino sta mimetizzato là Allora, tu ti senti pronto? A me non ho detto che mi sento pronto Non ti senti pronto Hai l'intenzione di... Tu aspetta, madonna, oh E quando avrete? Eh, infatti io sto... Che sto chiedendo, infatti Cioè, se tu ti senti pronto o mi lo dici? Allora, no Tu sei quanto? Tu c'hai il lanciarazzi attivo? Eh, lanciarazzi... Sì Però c'ho pure i fireworks Io volevo attirarli... La tecnica è di attirarli con i fireworks E poi... Andiamo... No, dobbiamo cogliere di sorpresa Ah Allora metto il lanciarazzi Aspetta... Lo vedi quella sta girando su se stesso? Sì, quello grosso Allora, lui dietro ha una bombola Sì La devi prendere Ok Si trova sul culo Però da qua adesso c'è una visuale che è pari a niente Io vedo soltanto l'ombra, vedo di lui Cioè, non vedo neanche dove sto mirando in questo istante Tu vuoi avvicinarti Vediamo dentro quest'hangar cosa c'è prima Magari troviamo una cosa che ci può servire Cioè, si può aprire tutto meno che gli armadietti, bene È logico C'è un coso che è entrato qua dentro, Alessio Non so neanche cosa sia Ah, è qualcosa lì Tutte e due sono entrate qua dentro Che probabilmente ci hanno sentito Mettiamoci dietro questi Questi bancali di legno Che sicuramente saranno antiproiettile Ok Ok Dove è quel coso? Sta appena a destra sta Ah, ce ne sta un altro la sinistra Di cosa enorme Sì Quello grosso, quello grosso Però il coso grosso qua non lo vedo più Che cazzo viene fatto È forse quello Vogliamo attaccare direttamente il coso grosso che sarà in fondo Allora, aspetta un po', fammi Sì Ah no, sono due, sono due i cosi grossi, eh Ce n'è uno a due piedi E l'altro appena vicino alla base Che ha quattro piedi Eh, boh, mica è cosa grosso quello Quello là a quattro piedi no, è diciamo di medio Però con la verde Quello qua, Marco, con la quattro piedi è qualcosa piccolissimo Sì No, ce n'è un altro a due invece Eh, quello stavo dicendo Quello stavo dicendo Quello in fondo ha tutto là Voglio fare una cosa Sì Non so, non so, non so minimamente come attaccare, lo sai Io ci vado, io vado dritto A chi però Io vado verso la base e attacco prima quello grosso, coi fireworks Così lo attiriamo Allora, facciamo sì Vabbè C'è un tizio che sta arrivando vicino a te Sono in tre, sono Mi sa che ci hanno visto, devo lanciare qualcosa Marco, tu ammazza il colli No, non qua, Marco, vedi ad attaccare laggiù, poi ci faccio io Ancora, non ci frega munizioni qua, vado ad attaccare a quello Vado, vado laggiù ad attaccare a quello E tu questo devi fare Vado da Vado da Vado da Vado da Vado da Minchia, quel cos'è un po' brutto Tu dispari, poi muore, non è più brutto Tu saccheggia, prendi tutto, saccheggia e saccheggiabile Esatto Io entro qua dentro, vedo se trovo qualcosa di interessante, non c'è niente Ah, c'è un signo però Performance, grazie Vi avvicino sempre di più piano piano, quattro come un gatto C'è una cosa davvero strana, questo coso arancione qua, non è un robot, questa è una luce Sì, lo so Provo a sparare la luce, poi se si spegne No Cazzo Cazzo che mi hai visto C'è la luce antiproiettile, che cazzo è? Non fa niente Io mi preoccuperei più di... ah Forse ho capito perché Cazzo che mi hai visto Ci sarà una porta che uscirà a questo posto di merda, no? C'è entrato l'area qua Sì, c'entrano o c'entrano, aspetta Se vuoi posso lanciare un flare No, con quello ci penso io, andrò fuori Un po' di distrazioni ci penso io Ah, sono morto, ma no, sono morto Sono dentro la casetta Pure dentro le case fanno male queste cose Non, non, non Secondo colpo è andato Oh, sta sto casse che è fastidioso per la miseria È andato, è andato, è andato, è andato, è andato È andato da puttane, se ne è meritato Quanti razzi hai? Eh, sei Eh, ma tra poco un altro po' È morto? Sì, è morto, però, c'è un altro Adesso mi devi dare una mano a me, però Ok, dove ti trovi? Sto vicino Ok, sto arrivando Oh, ma sti cosi piccolini sono fastidiosi Ok, uno è andato Già, hai il granato, no? Aspetta, non le posso prendere, ma che posso Sono imbappinato con queste Perché ce l'ho in inventario Mica, ma il missile mi ha preso proprio in petto Oh, no Che cazzo che spai razzi Alessio E' uno di sti quasi studi Sto fatto è scemo che sta qua e spai razzi Davo un bot qua Arrivo eh C'è rimasto solo quello Ok saccheggiamolo Che ci sta dentro questa base insomma Non lo so Aspetta attenzione attenzione che c'è altra roba dentro Questa è pieno di zepo di sti ragnetti C'è un cacchio vedi Infatti non c'è proprio un cazzo C'è questo Che ci sta Giacca militare Car battery Sono delle casse Manca d'aria Flashlight emergency flare Flashlight Che ci sta qua Aspetta Fammi fare un attimo l'inventario Allora Vediamo un po' cosa c'è qua Allora Allora Ci stiamo un po' qua Allora Facciamo che il fucile a pompa ci sta pure tenendo là Allora Ce l'hai dei kit medici? Sì Da qualche parte stanno Aspetta Che stai sparando? Allora C'è qualcosa qui che mi deve vedere Ah c'è ancora qualcosa lì Ancora non è Ti Allora Via di cosi Alessio Ho preso L'ho freddato Allora Saccheggiamo un po' in giro E poi ci andiamo a riprendere a fare missione Va bene? Sì Ma qua ragazzi Ho saccheggiato abbastanza Ci sono delle munizioni in particolare Che ti servono? Oh questo sta scendendo Vedi Sì Lascialo scendere Lo so Quel coso mi ha sparato prima a me Non c'è qua Vai a shippare qua Allora vai a shippare il robot Quello grosso Vedi che ci sta Fatto Non c'è niente Dai che fa sto coso? Boh Ci sono salito sopra Ah boh Andiamo a fare la missione Andiamo a saccheggiare un po' in giro Sì ci andiamo a fare la missione Non hai Del Dei kit medici Sì vieni con me Così devi do Sono quattro Ti tenere troppo Uno di questi qua Medi Una Dov'ansed Ci ho A posto Ti servono? Io sento i passi di qualcosa di enorme comunque Io lo sento ma non lo vedo Tu hai pure tu questa impressione? Sì Ok Ok Cazzo Vabbè è inutile che ti chiedo che stai facendo Sicuramente stai scrivendo al telefono Sì Beh immaginavo Che non ci credevo io che ci voglia tre ore per mettere due cose nell'inventario C'è un tizio che ti sta minando comunque C'è un tizio che Ancora non mi ha minato in asciutto Pazza Oddio Sono bugati Che c'è un altro Che stanno incazzati neri No 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 li sono arrivati Li invorsi sono arrivati Aspetta 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 Vieni qua vieni qua vieni qua e tiralo qui Fammi vieni qua fammi provare a fare una cosa Ho disattivato Ok Ci sono sti cosi piccoli Danno solo fastidio Si incazzano C'è un altro C'è un altro No 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 è tutto niente Non è tutto niente ok vogliamo andare a che parte? ok tu c'hai la mappa dobbiamo fare delle missioni se non ho sbaglio allora si c'ho le missioni allora ce ne ho due da fare allora c'ho flying object ok facciamo questo flying object oggetto volante ok come ci arriviamo? ah ecco qua flying object andiamo a Ostervik ah no non si può fare ci abbiamo oppure andiamo a safe house che si trova appena a sud a campo ci prendiamo la bicicletta e ci andiamo lì con la bicicletta dov'è Ostervik? ah eccolo qua no non c'è lo spostamento rapido lì dov'è safe house a sud e dov'è safe house? dove siamo noi a sud ma non siamo più vicini ora scusa eh ma la bicicletta dove la troviamo? si ah ok a posto ok che c'è Marco? non siamo la bicicletta dove la troviamo? c'è la bicicletta dovrebbe essere la safe house f23 vabbè andiamo vediamo la safe house f23 della base aerea ok sto provando a andare lì secondo me lì ci stavano i nemici secondo me qua prima io mi ricordi che prima c'era cosa per le eccomi qua ok aspetta andiamo su resi qua vediamo se magari ci sono delle munizioni che ci servono qua nell'inventario nel box che mi sa che qualcosa ho messo io però un'arma manuale me la vorrei portare 243 birdshot c'è il binocolo pure ok un attimo sto arrivando ok oh 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 ho fatto la sgommata fammi cambiare i kit medici un attimo un attimo che sono abbastanza lontanati eh un attimo che sono abbastanza lontanati eh come cazzo hai fatto a sail la le cosa sail di lato la devi fare sono abbastanza lontano da te Ale aspettami lo so ho preso l'unica pietra che c'era nel villaggio a questo posto l'abbiamo saccheggiato eh si abbiamo fatto l'altra volta però noi ci rendiamo assesso oh non c'è un posto per aprire eh non c'è un'apertura solo questo no non c'è niente dobbiamo andare per forza dovevamo andare per forza vale ma dove? eh dove a sud dobbiamo andare secondo me ma che fa ora credo di aver trovato una strada per uscire da qua non so forse è la stessa strada che stai percorrendo tu si dobbiamo andare su un ultor c'è qualcuno eh io sono abbastanza lontano da te non non so chi sia non ho fatto niente Marco abbastanza lontano sei qua ah ma sono sti cosi di bastardi a due piedi dobbiamo fare una corsa proviamo così evitiamo no non possiamo evitarlo Marco questa cosa di fronte ma perché stai a sparato sto fuscita anticarpato Marco? ok certo ma perché spari un fuscita? ma perché spari un fuscita? c'è un altro c'è un altro che guarda ah no c'è la rete la rete è antiproiettile mi sono dimenticato quando è antiproiettile? è esploso è esploso camminiamo da bicicletta e scappiamo questa non è la mia bicicletta allora in pratica dobbiamo seguire questa strada e poi girare a destra capito? poi un'altra volta a destra e dopo selezioniamo la munnezza si 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 capo selezioniamo a mettere le mani a 25 anni selezioniamo a mettere le mani a munnezza una saccia guarda sanda madonna che mi tocca sentire c'è qualche cosa di vabbè non fa niente ce lo vediamo pure vediamo c'è un coso che cammina in solitario oh cazzo nonno si è caduto ma che è? ha troppato qualcosa di buono? non ha troppato un cacchio adesivo se cagò la cosa madonna è arrivata la gang è arrivato scappa lei scappa mi ha disattivato adesso questo guarda mi ha disattivato vediamo se c'è qualche cosa qua attima sto a mettere impostazioni qua ok metto la bicicletta ho fatto un saltino c'è qualche cosa che va a fuoco la sinistra doveva andare da un'occhiata io lascio la bicicletta sopra la ho trovato paramedic box paramedic response pack mannaggia miseria c'ho l'inventario pieno e tolgo stava pistola di merda c'è qualche cosa interessante in questa casa che sono sei due scatole come terra noi millimetri full metal jack e ti sta tutti di più qua qua ci sta una cassetta collect pick up horse party ok ne ha più la bicicletta c'è un uncino qua niente qua ci stanno traduce soft ammo qua insomma fireworks e ci stanno pure una gas mask qua se ti serve lascerò ok cos'è quel coso laggiù ah non ci spuglio queste cose hanno lasciato una scia di foglie proprio tu ce l'hai mangiata beh? no ok ora dopo andiamo a mangiare che mangi tu dopo? cibo 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 andiamo eh ok 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 ma se è fatta l'uno vogliamo andare a mangiare eeeh andiamo a mangiare dai poi riprendiamo più tardi si ok aspetta poi dobbiamo fare exit domenuole non lo so aspetta eh fai exit domenuole e perchè ci vediamo tra poco sì ci vediamo tra poco ok ci vediamo tra poco Grazie a tutti